con la lezione di oggi. Come dicevo oggi entreremo più nel discorso del linguaggio cinematografico per cui partiamo proprio dalla base, partiamo dall'inquadratura e che cos'è, che cosa significa inquadrare perché sembra un concetto molto semplice ma sull'inquadratura sono stati scritti fiori di libri e c'è tantissima letteratura proprio perché è vero che inquadrare è mettere dentro al quadro qualcosa ma questo mettere dentro il quadro e come si mette e cosa si crea intorno al quadro poi crea tutto quello che è lo spazio filmico e la narrazione cinematografica per cui partiamo proprio dall'unità base come si dice che è proprio l'inquadrare e come diceva Basel l'inquadratura è una finestra aperta sul mondo che poi la citazione che avete sentito anche l'altra volta da Simone quando raccontava proprio anche del punto di vista. Io partirei facendo un piccolo passo indietro prima di entrare proprio nel linguaggio e nelle funzioni del linguaggio cinematografico partirei proprio dai fratelli Lumiere dove siamo arrivati nell'ultima lezione l'ultima volta prima di salutarvi abbiamo visto l'uscita dell'officina dei fratelli Lumiere il primo film girato e proiettato quel 28 dicembre del 1895 e vorremmo ripartire da lì proprio perché vedremo attraverso poi queste due piccole vedute Lumiere che ho scelto la colazione del bambino e il fabbro avremo modo un po' di introdurre quello che è il tema di oggi per cui cosa vediamo e come lo vediamo che sono il discorso filmico e profilmico queste due domande ci accompagneranno per tutta la lezione quando noi parliamo del cosa vediamo cioè quello che viene mostrato cioè la messa in scena si parla sempre di profilmico e invece come lo vediamo cioè come è stato ripreso da che angolazione da che distanza che tipo di lavoro è stata fatta sull'immagine a che vedere con l'universo filmico e saranno i due grandi temi di oggi partiamo per cui dalla dai Lumiere adesso vi condivido la primo link speriamo che funzioni tutto se ci sono problemi me lo dite o comunque scrivetelo in chat e vediamo adesso io condivido il primo link in chat lo dovreste vedere tutti e tutte perfetto adesso cliccando su quel link vi si aprirà una pagina di youtube dove potrete vedere queste due non c'è l'audio giusto perché è una veduta del 1895 e all'epoca non c'era audio ma veniva fatto un accompagnamento sonoro in questo caso abbiamo scelto la sequenza senza mostrarvi l'audio per cui guardiamo insieme il film e poi ci rivediamo qua fa un minuto e mezzo grazie 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 visto sono due, come diceva Simone, i fratelli Lumiere hanno fatto migliaia di film, stiamo parlando di più di 1400 film, tutti della durata di circa 50 secondi, che era proprio il metraggio della pellicola che veniva utilizzata dai fratelli Lumiere, per cui era anche la durata del film. E questi film, io ho iniziato da qui un po' per collegarmi al discorso della scorsa volta, ma anche e soprattutto per mostrarvi un po' qual era la pratica dell'epoca, cioè siamo agli inizi, siamo proprio all'origine, è appena nato il cinema, siamo nel 1895, sono le primissime vedute e il cinema prende dal teatro quella che è la sua messa in scena, cioè mette, e se voi noi guardiamo queste vedute, adesso ve la ricondivido così magari riusciamo a vederle insieme. Adesso vedete l'immagine del film dei fratelli Lumiere, perfetto. Se noi andiamo a vedere com'è composta questa immagine, per cui torniamo al discorso che vi facevo prima, del cosa vedo e come lo vedo, io quello che vedo non è altro che un tavolo apparecchiato per una colazione con un papà e una mamma e una bambina che stanno facendo questa colazione. Infatti quello che noi vediamo sulla sinistra è proprio Auguste Lumiere, che come dicevamo l'altra volta si presta spesso a fare anche gli attori dentro al film, questa è la famiglia Lumiere e siamo a casa proprio a Lione nella loro dimora lionese e c'è questa racconta la colazione della bambina, per cui quello che vediamo, il cosa, la messa in scena è la colazione. Il come lo vediamo, che è l'aspetto che vi dicevo filmico, è interessante perché noi come le vediamo? Le vediamo frontali, cioè noi la macchina è posta di fronte ai soggetti che vengono ripresi. Come li vediamo? Li vediamo in mezza figura, per cui la macchina ha una certa distanza dai soggetti che vengono ripresi. E dall'altra parte cosa vediamo? Vediamo anche, cioè come lo vediamo? Lo vediamo in una composizione dell'immagine molto precisa, dove la bambina è il centro dell'immagine, i due soggetti compongono perfettamente l'immagine, non abbiamo spazi a destra e a sinistra dell'immagine, l'ambiente che vediamo intorno è un ambiente che ricorda immediatamente la famiglia, ricorda la casa, la quotidianità, per cui quello che viene messo in scena in questa colazione è proprio la colazione del bambino e niente di più. Però quello che a noi interessa è come viene raccontata anche questa colazione, la scelta di esempio quando abbiamo visto la settimana scorsa l'uscita delle officine, abbiamo visto che la scelta era di inquadrare l'intero portone, vedere le persone in figura intera che si muovevano a destra e a sinistra della macchina da presa. In questo caso invece la macchina è molto più vicina rispetto alla precedente inquadratura dell'uscita delle officine, perché l'interesse, la messa in scena, quello che interessa ai fratelli Lumiere è mostrare proprio la dinamica della famiglia nella colazione, in questo rito mattutino. Ed è importante perché questa tipica inquadratura, molto, che noi chiamiamo in campo medio, che vediamo tutti i soggetti occupano buona parte dell'inquadratura, è un'inquadratura che è molto utilizzata nel cinema delle origini. Viene utilizzata moltissimo, perché? Perché l'idea era che lo spettatore cinematografico un po' riprende la messa in scena teatrale, c'è lo spettatore cinematografico come a teatro, si trova di fronte a una situazione e qual è il posto migliore a teatro per vedere uno spettacolo? È al centro, per cui come se lo spettatore, la macchina è posta al centro proprio, come se noi fossimo davanti a questa colazione, e in modo che noi vediamo la situazione in una dinamica molto pulita, non ci sono angolazioni particolari, non ci sono movimenti di macchina, cosa che vedremo invece poi il cinema, non ci sono stacchi, non c'è montaggio, cioè non c'è il dettaglio della tazzina o il movimento della bambina che prende il biscotto, cioè tutto è visto come se fossimo veramente dei spettatori teatrali. La stessa cosa vale per la veduta successiva, quella del Fabbro, ma qui c'è un'aggiunta che è interessante, che è proprio la messa in scena, cioè mentre nel film precedente, nella colazione del bambino, la messa in scena è realistica, cioè noi non ci accorgiamo che c'è stato qualcuno che ha preparato il tavolo, che ha posizionato le tazzine in un determinato modo, ha messo i corpi, cioè la sua messa in scena viene in qualche modo nascosta e rappresenta una realtà, quello che noi vediamo. In questo caso, pur sembrando la realtà, perché noi vediamo un Fabbro al lavoro, ci stona il fatto che il Fabbro si è vestito a festa, se voi ci fate caso, lui porta la camicia, indossa la cravatta, per cui questo ci fa capire che si era preparato per questa situazione. Io non credo che il Fabbro del 1895 andasse a lavorare con la camicia bianca e il cravattino per lavorare il ferro, per cui qui la messa in scena è più evidente, più palese rispetto a quella precedente. E inoltre a un certo punto, proprio a dirci che è una messa in scena, entra un personaggio alla fine dell'inquadratura che porta da bere al Fabbro, che porta il vino al Fabbro. Per cui questo personaggio entra in campo, si dice, perché tutto quello che noi vediamo all'interno della quadratura si dice in campo e subito dopo noi lo vediamo uscire di campo. Per cui c'è una dinamica che si crea anche tra campo e fuori campo che non c'è nella veduta precedente e questo introduce tutta una serie di elementi del linguaggio cinematografico già anche nelle vedute Lumière che sono poi alla base del linguaggio cinematografico, delle dinamiche che si vanno a costruire e delle relazioni che si vanno ad instaurare tra quello che noi vediamo e quello che non vediamo. Cioè quello che è in campo e quello che è fuori campo. Uno immagina che il campo e il fuori campo siano quello che io vedo e quello che io immagino. Se voi ci pensate, il campo è quello che io vedo e il fuori campo è ciò che io immagino. Però proprio nella relazione che c'è tra... Posso chiedere scusa un momento? C'è qualcuno che di sottofondo continua a parlare e copre completamente la sua voce? Ah, sembra addirittura parlare in lingua straniera. Quindi non so se sono io solo che sento. C'è proprio copia e la sua voce. Io sento che... È la formatrice. Ok. Adesso disattivo l'audio di tutti e quindi Cri riattiva poi il tuo e basta. Allora, adesso mi risentite? Perfetto. Allora, come dicevo, nelle due piccole sequenze che abbiamo visto, cioè sequenze, due filmati dei fratelli Lumière, le vedute dei fratelli Lumière, abbiamo introdotto tutta una serie di elementi che poi adesso andiamo a vedere nello specifico che hanno a che vedere con la dimensione, dicevamo, del filmico e del profilmico. Infatti, quando prima parlavamo dell'inquadratura, dicevamo che l'inquadratura è l'unità base del linguaggio cinematografico e vi dicevo che l'inquadratura è costituita da un punto di vista, è una porzione di spazio che viene delimitato da una cornice che poi è una cornice immaginaria. Però nel momento in cui io vado a selezionare una parte di spazio, per cui parliamo del cinema dal vero, perché se parliamo del cinema d'animazione è tutto un altro discorso, ma non entreremo minimamente nel discorso. Lo dico solo perché sono due modi di raccontare diversi, cioè come potete immaginare, nel momento in cui io ho una realtà e vado a selezionare questa realtà, è diversa da un fotogramma che vado invece a costruire, disegnare, come nel cinema d'animazione. Cioè nel cinema d'animazione io non ho nulla, ho un foglio come avesse un foglio bianco e di cui poi vado a costruire una narrazione su questo, vado a disegnare su questo foglio. Nel film dal vero, comunque nella fiction e nel documentario, io ho già una realtà e questa realtà o la vado a costruire, per cui la vado a mettere in scena, o la vado a selezionare attraverso il quadro. E come dicevo, nel momento in cui io parlo di in campo, cioè parlo di qualcosa che sta all'interno del quadratura, inevitabilmente parlo anche di qualcosa che sta all'esterno dell'inquadratura, ma che dialoga, che crea continuamente una relazione con quello che è all'interno. Adesso lo vedremo, vi farò vedere un filmato di M. Il mostro di Dusseldorf, un film di Fritz Lang del 1931, che è un capolavoro proprio anche del cinema espressionista, del cinema tedesco di quegli anni, dove qui è evidente il rapporto tra campo e fuoricampo, dove questa dinamica che si va a costituire tra queste due, cioè tra il visto, il campo, e l'immaginato, il non campo, si crea quello che viene chiamato lo spazio filmico. E questo spazio filmico è quello dove avviene con tutta la narrazione cinematografica. E come dialogano questo campo e questo fuoricampo? Lo fanno in tanti modi. Sicuramente il modo più che viene alla mente immediatamente è quello attraverso il suono. Ad esempio, io posso avere delle voci fuoricampo, come prima la signora che diceva io sento delle voci, ma non vedo chi è. Ecco, io sento delle voci, ma non so chi sta parlando. Ecco, questo è un tipico esempio di voce fuoricampo che però interagisce col campo, che magari crea delle relazioni. Nel caso, ad esempio, ci sia qualcuno che parla e noi vediamo una persona che dialoga con qualcuno che non vediamo, per cui chi è questa persona? In questo caso si parla di fuoricampo attivo, anche quando noi ci poniamo delle domande, ci chiediamo chi è, cosa sta facendo, che relazione c'è tra la persona che sta parlando e quella che non vediamo. Altri modi in cui dialogo nel campo o fuoricampo sono le entrate e le uscite di campo, ad esempio, di un personaggio che passa, di un oggetto, anche magari una palla come quella di Shining che a un certo punto arriva e invade il campo visivo e noi non sappiamo da dove arriva questa palla. Chi ha visto Shining se la ricorderà perfettamente, la palla di Shining. Ci sono degli elementi che entrano in campo o escono dal campo e creano questa relazione dove noi sappiamo che esiste qualcosa al di là dell'inquadratura che noi vediamo. E questa dinamica, però, tra campo e fuoricampo, può anche creare dei cortocircuiti tra quello che noi vediamo e quello che noi sentiamo, tra quello che noi immaginiamo e quello che vediamo. Per cui, attraverso poi questi cortocircuiti, il cinema trova degli spazi narrativi che non sono magari classici, ma che vanno a creare delle dinamiche o vanno a creare dei sensi che vanno al di là di quello che noi vediamo. Cioè, ci dà il fuoricampo, a volte, adesso lo vedremo in Amembo, il mostro di Dusseldorf sarà chiarissimo, ci danno delle letture, queste relazioni tra campo e fuoricampo che non avremmo in nessun altro modo se non proprio creando queste relazioni. Ad esempio, qui vedete nell'immagine che abbiamo messo del film, ad esempio, la relazione tra campo e fuoricampo avviene con l'ombra, cioè noi vediamo una bambina, vediamo un'ombra, quest'ombra incombe in qualche modo perché è più alta, guardate anche il tipo di inquadratura come è ripresa l'ombra leggermente da più bassa rispetto a un piano frontale, per cui abbiamo già qualcosa che incombe, già con questa immagine noi abbiamo lo sguardo della bambina è verso l'alto, non è verso il basso, non è dritto frontale, per cui ci dice già che c'è una dinamica di squilibrio tra i due personaggi, per cui uno è un adulto e uno è un bambino, anche per come è vestito, però già qui è un esempio di entrata in campo di un fuoricampo che incombe, che dà un altro significato a quello che noi vediamo e soprattutto in M, il mostro di Dussendorf, è stato un grande film, come dicevo, anche espressionista, perché l'uso della messa in scena, in questo caso dell'illuminazione, delle ombre, della composizione dell'immagine è molto curata, è molto particolare, dopo lo vedremo nella sequenza. Io direi adesso di farvi vedere il film e così è più. Vi condivido come prima il link. Adesso vediamo, sperando che funzioni, questo dura un po' di più rispetto al film alle vedute dei fratelli Lumière perché è una sequenza di cinque minuti. Nella sequenza che adesso andiamo a vedere, siamo all'inizio del film di Fritz Lang, come vi dicevo, M, il mostro di Dussendorf, è un film del 31 e un film che rientra perfettamente in tutta la poetica di Fritz Lang dove si parla spesso di senso di colpa, di giustizia, di rapporto tra giustizia ordinaria e giustizia non ordinaria e per chi lo conosce sa di cosa sto parlando. È il penultimo film di Fritz Lang del periodo tedesco perché da lì a poco poi Fritz Lang lascerà la Germania e fuggirà negli Stati Uniti perché è ebreo per cui perseguitato dal nazismo anche se non troppo perché poi lo stesso nazismo lo voleva a capo del dipartimento della propaganda ma Fritz Lang proprio perché aveva altre idee e non aveva nessuna intenzione di lavorare per la propaganda nazista per cui lascerà da lì a poco la Germania insieme a Peter Lorri che è anche il protagonista di questo film di M che è un protagonista incredibile capacissimo di dare corpo e anima a questo personaggio ed è curioso perché questo è anche il primo film sonoro di Fritz Lang siamo nel 31 il cinema parla da pochissimo e Fritz Lang sperimenta un sonoro che non è un sonoro ordinario che non serviva solo per come si dice empatico per accompagnare le immagini ma è un sonoro che introduce anche tutta una serie di elementi molto interessanti perché noi tutte le volte che incontreremo il nostro M il nostro mostro di Dusseldorf questo è accompagnato da un fischio da un fischiettare che è tipico che noi tutte le volte ritroveremo all'interno del film per cui viene anticipato continuamente l'arrivo del del mostro attraverso proprio l'uso di un suono off attraverso questo che dicevamo prima anche della dimensione del fuoricampo adesso vi faccio vedere il film lo guardiamo insieme e poi dopo ci rivediamo fra cinque minuti perché la durata del in questo caso della sequenza per parlare di Fritz Lang e di il mostro di Dusseldorf e di Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Mamma, sei lì? Buonanotte, Kathy. A domattina. Buonanotte, donna. Attento al mal di gola. Sei un grande cantante, ora rammenta la fitta. E la pioggia, benché la chiamino rugiada in California, è pericolosa. Davvero? Ma il cuore è pieno di sole e canta felice stasera. Buonanotte, buonanotte. I'm singin' in the rain Just singin' in the rain What a glorious feel And I'm happy again I'm laughin' at clouds So dark up above The sun's in my heart And I'm ready for love Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with the rain I have a smile on my face I'll walk down the lane With a happy refrain Just singin', singin' in the rain Dancin' in the rain I'm happy again I'm singin' and dancin' in the rain I'll walk down the rain Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andando sotto la pioggia qui vediamo che la sequenza si apre con i nostri protagonisti che escono di casa per cui è un momento in cui si salutano. Noi abbiamo un'inquadratura stretta poi dopo la macchina si apre e noi seguiamo il nostro Jane Kelly che danza sotto questa pioggia. Questa pioggia che è anche una simbolica è stata interpretata un po' come l'emblema di una società in crisi in cui però lui entra e con tutta la gioia e con tutta la felicità si muove all'interno di questa sequenza seguito dalla macchina da presa. Vedete in questo caso la macchina lo sta seguendo in questa prima parte adesso tolto l'audio però lo rimettiamo. A un certo punto c'è una fase e inizia a seguire il personaggio sotto questa... Ecco chiudiamo qui questa è stata una sequenza oltretutto molto complessa da girare ci sono voluti quattro giorni di riprese per poterla realizzare e si narra che Jane Kelly durante le riprese avesse una febbre altissima 39 di febbre ma ha voluto comunque girare e continuare a girare i film. Bene prima di chiudere questa parte dedicata all'inquadratura e lasciare invece la seconda parte al montaggio che se ne occuperà il mio collega Simone Fratini vorrei giusto riprendere due o tre concetti di base dell'inquadratura perché? Perché dato che poi dopo dovrete andare a lavorare sui laboratori che stiamo pensando hanno a che vedere proprio con lo sguardo, con l'inquadrare, con il guardare il mondo la prima cosa, cioè l'unità base del linguaggio cinematografico è l'inquadratura per cui ciò che come vedete nell'immagine di François Truffaut ciò che io vado a mettere all'interno di questo quadro e come lo vado a mettere all'interno di questo quadro per cui tutto il discorso che abbiamo fatto tra filmico e profilmico, cioè tutto il discorso che abbiamo accennato su qual è il discorso filmico, cioè come vediamo le cose, cioè il profilmico e come potremmo dividerlo in profilmico è cosa vediamo, cioè quello che è il posto davanti alla macchina da presa per essere ripreso per cui le scenografie, i costumi, la preparazione degli attori, la composizione dell'immagine e la fotografia cioè fa parte della messa in scena, poi c'è tutto l'aspetto invece filmico che è quello a cui abbiamo dedicato un po' più di tempo che invece è come lo vediamo, cioè come andiamo a riprendere poi la messa in scena cioè quello che abbiamo davanti alla macchina da presa lo andiamo a riprendere da lontano, da vicino, angolato, in che tipo di angolazione dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso come si compone questa immagine, cioè come l'andiamo ad inquadrare attraverso dei dispositivi, attraverso dei movimenti di macchina facciamo una panoramica, una capellata, ci avviciniamo, ci allontaniamo quando abbiamo parlato dei movimenti di macchina mi sono dimenticata di dire ma è fondamentale che i movimenti oltre che possono essere realizzati con diversi strumenti cercano anche di indicare uno sguardo cioè attraverso il movimento obbligo in qualche modo il mio spettatore a seguire una direzione di sguardo se voi guardate ad esempio questa inquadratura di Psyco noi nel momento in cui guardiamo questa immagine guardiamo come è stata composta vediamo che al centro dell'inquadratura non c'è il nostro soggetto ma il soggetto è posto più a destra quasi al centro dell'inquadratura invece abbiamo questo rapace con le ali spiegate che guarda verso lo spettatore per cui è come se fosse una figura che incombe ma incombe sia lo spettatore sta incombendo realmente sulla nostra protagonista ma incombe anche sullo stesso Norman che vedremo è anche vittima e carnefice un po' all'interno del film perché è anche vittima lui stesso di questa psicosi che lo ha portato poi a questa scissione per cui abbiamo parlato di questi elementi abbiamo parlato moltissimo del campo e del fuoricampo per cui di che relazioni si va a instaurare tra quello che noi vediamo e per cui ciò che viene mostrato e ciò che non viene mostrato cioè che viene posto al di fuori della nostra visuale che dà spazio all'immaginazione ma che continuamente crea delle relazioni con quello che noi vediamo poi fondamentale all'interno del discorso abbiamo visto la soggettiva per cui il punto di vista del nostro personaggio questa soggettiva che può essere sia come un'indicazione di sguardo cioè noi vediamo quello che vede il personaggio ma anche ci mette in relazione con quelli che sono le sue emozioni, i suoi stati d'animo le sue paure, i suoi desideri questo di Psycho che vediamo sempre tornando allo stesso film è la soggettiva di Norman che sta guardando la scena che anticipa poi la scena più famosa, quella della doccia ed è la scena in cui lui osserva lei la spia, ma è proprio il suo desiderio quel voyerismo che poi fa grande il cinema di Hitchcock dalla finestra sul cortile ad altri film poi ci siamo entrati invece nella posizione della macchina da pirese abbiamo visto le funzioni che ha la scala dei campi e dei piani come attraverso l'alternare di campi e piani grazie al montaggio noi andiamo a costruire il discorso filmico la narrazione abbiamo fatto tutta la scala dei campi dal campo lunghissimo al totale e la stessa cosa con la scala dei piani dei piani abbiamo detto che si riferiscono alle persone, alle figure in questo caso noi abbiamo dal primissimo piano che è l'inquadratura più stretta è quella che ci mostra il volto della nostra protagonista fino alla figura intera in cui ci mostra il soggetto nella sua totalità poi abbiamo visto l'angolazione della macchina da presa per cui oltre alla distanza l'angolazione dove vado a posizionare per cui dal basso, dall'alto, frontale, laterale sono tutte cose che nel momento in cui guardiamo un'immagine noi dobbiamo chiederci perché ce l'ha mostrata così come mai ha deciso di privilegiare questo tipo di angolazione rispetto a quest'altra poi abbiamo chiuso invece con una super carrellata velocissima sui movimenti di macchina abbiamo visto che sono fondamentalmente due movimenti primari la panoramica e la carrellata questi movimenti possono essere fatti in tanti modi attraverso degli strumenti che sono attraverso delle macchine come il gru, il dolly, la stilicam la macchina a mano la costruzione di carrelli e abbiamo visto che ogni movimento sta a indicare qualcosa che ci indica uno sguardo ci indica una direzione i movimenti possono essere a scoprire per cui partire da un particolare e aprirsi oppure possono essere a selezionare cioè io indico una direzione parto dal generale vado nel particolare abbiamo visto incantando sotto la pioggia come questi movimenti sono a servizio totalmente della narrazione della coreografia che è stata costruita e poi con questo io chiudo e lascio la parola Simone Fratini che vi parlerà invece del montaggio grazie mille per il tempo spero di essere stata chiara buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti